Sarà giugno il mese più crudele per la Cina dal punto di vista sanitario. Almeno così temono gli esperti che prevedono un'ondata di Covid da 65 milioni di casi a settimana. A sostenerlo Zong Nan Shan, considerato il massimo esperto di malattie respiratorie nel paese. A preoccupare è la nuova variante denominata XBB. Proprio su questo nuovo fronte, Nan Shan ha anche rivelato che presto saranno messi sul mercato due nuovi vaccini. Lo scienziato non ha nascosto anche una punta di orgoglio nel dire che nello sviluppo di vaccini più efficaci la Cina sarebbe in anticipo rispetto agli altri paesi. Intanto il paese deve fare i conti con le proiezioni degli scenari futuri a cominciare da quelli di fine maggio in cui si prospettano 40 milioni di contagi. Stando ai dati del centro cinese per il controllo e la prevenzione delle malattie il tasso di infezione della variante XBB è passato dallo 0,2% di metà febbraio a 74,4% di fine aprile e all'83,6% di inizio maggio. L'elemento da considerare è però, secondo gli esperti europei, il fatto che la Cina ha una copertura vaccinale diversa dalla nostra. Una grande parte dei cinesi è immunizzata 4 o 5 mesi fa e sappiamo bene che questa immunità da Omicron dura meno del vaccino che che ne dica l'orgoglioso professor Nan Shan.